Presidente Aiello, la stagione sportiva e sociale dell'ASD Granata Basket è iniziata. Dopo la sosta estiva, quali sono i punti cardine di questa nuova ripartenza? Bene, punti cardine ce ne sono diversi. Inizialmente abbiamo pensato di ricominciare ad ottobre, date le altissime temperature, quindi per evitare che i nostri ragazzi soffrissero all'interno della palestra. Abbiamo fatto soltanto due giornate all'aperto e adesso ricominciamo con grande voglia di ricominciare la stagione indoor. I ragazzi hanno ripreso oggi in 25, contiamo di arrivare entro la fine dell'anno a circa 50 iscritti e questo già è un punto cardine, significa che la crescita esponenziale della nostra associazione, visto che siamo giunti già al terzo anno di attività e anche l'associazione sta crescendo in quanto al numero di associati, in quanto, come dicevo già nelle scorse interviste, siamo partiti nel luglio 2020 in 5 e adesso siamo ben 32 associati. Quindi i numeri già dicono tutto, ma al di là dei numeri intendo sottolineare che la crescita è anche sociale, perché siamo adesso veramente sulla bocca di tutti e per quanto di buono sta facendo questa associazione in ambito di inclusione. Presidente Aiello, il gruppo dirigenziale di fatto non si è mai fermato e ha continuato a intessere rapporti con associazioni e istituzioni. Ecco, quali gli auspici per il futuro? Ringrazio Martina per questa domanda, in effetti l'associazione non si è mai fermata durante questi tre mesi che solitamente per lo sport rappresentano quasi una glaciazione estiva, invece noi siamo stati pienamente operativi. L'intero staff dirigenziale ha intessuto, come diceva Martina, rapporti con associazioni e istituzioni, in primis un'associazione di ragazzi trapanei, i BIVE, che ci ha ospitato nei loro locali e ci ha dato disponibilità anche in merito a sinergie future, quindi intanto li ringraziamo per questo. In più, la nostra operatività estiva è stata nell'interesse dei rapporti sociali con tutti i comuni che hanno aderito a una nostra proposta di consorzio e adesso andremo a ratificare quanto di buono abbiamo fatto d'estate e d'inverno cercheremo appunto di protocollare tutto quanto ci siamo detti. In più, abbiamo diversi partner che aspettano soltanto che ci avviciniamo e che concordiamo insieme quale può essere il nostro progetto per insieme sposare questa idea di inclusione. Giovanni Basciano, da responsabile dell'area tecnica ti chiediamo quali sono le novità che ci sono nella struttura sportiva dell'associazione? Allora, principalmente le novità sono che avendo un elevato numero di ragazzi che hanno sposato la nostra causa, è importante dividerli in più gruppi rispetto all'anno scorso in modo tale che loro possono avere più opportunità per divertirsi perché essendo meno in palestra possono avere più spazio ma allo stesso tempo gli istruttori in questo caso possono dedicare loro più tempo con un rapporto ancora più individualizzato. Poi, un'altra cosa importante è che speriamo di poter avere un'altra fascia d'orario in qualche palestra e vorremmo attivare un nostro corso di mini basket. La cosa poi importante è pure che altri istruttori ci hanno chiesto di prestare la loro attività come sempre di volontariato nel collaborarci per poter portare avanti questi gruppi di ragazzi con la finalità che è quella che si divertano e finalmente si possa fare un'inclusione a 360 gradi.